Natale è il tempo della manifestazione di Dio, così ha detto il Papa nell'Omelia della Messa del Mattino. Quando guardiamo un papà o una mamma che parlano al suo figliolo, noi vediamo che loro diventano piccoli e parlano con la voce di un bambino e fanno gesti dei bambini, anche uno che vede di fuori può pensare ma questi fanno il ridicolo, si rimpiccioliscono proprio all'ino perché l'amore del papà e della mamma hanno necessità di avvicinarsi di abbassarsi proprio al mondo del bambino. Se papà e mamma le parlano normalmente il bambino capirà lo stesso ma loro vogliono prendere il modo di parlare del bambino. si avvicinano, si fanno bambini e così è il Signore. I teologi grecchi parlando di questo dicevano una parola ben difficile la sincatavasi, dicevano, la condisendenza di Dio che discende a farsi come uno di noi. e così l'abbiamo sentito qui, così parla il Signore. Non temere, io sono qui, non avere paura. E poi il papà e la mamma anche dicono cose un po' ridicole al bambino, amore mio, giocattolo mio e tutte queste cose. Anche il Signore lo dice, vermicciattolo di Giacobbe. Ma tu sei come un vermicciattolo, per me è una cosina piccolina, ma ti amo tanto. Questo è il linguaggio del Signore. Il linguaggio d'amore, di padre, di madre. Parola del Signore, sì, sentiamo quello che ci dice. Ma anche vediamo come lo dice. E noi dobbiamo fare quello che fa il Signore. Fare quello che dice e farlo come lo dice. Con amore, con tenerezza, con quella condissendenza verso i fratelli.